Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro appuntamento settimanale che ci apre le porte al Consiglio regionale della Toscana, come vi abbiamo detto nella scorsa edizione, in un certo senso la seconda parte perché sono stati giorni intensi di lavoro a fine luglio con l'aula che si è riunita tre giorni quasi consecutivi, ma vediamo insieme quelli che sono i temi di questo nostro appuntamento. Parleremo del bilancio di previsione, via libera all'assestamento e poi parleremo invece delle strade di grande comunicazione, le infrastrutture, in modo particolare la Firenze-Pisa-Livorno con le code e i lavori. E poi i prossimi impegni del Consiglio regionale, ma anche il punto della situazione a un anno da Presidente del Consiglio regionale di Antonio Mazzeo. Andiamo quindi per ordine perché parliamo subito del bilancio, il rendiconto generale 2020, l'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, i dati indicati in via presuntiva e provvisoria nella legge di bilancio. Vengono così resi definitivi la variazione complessiva nel bilancio di previsione 2021-2023, è di 1 miliardo e 61 milioni di euro come entrata, 186 milioni di euro invece come spesa, e quindi un saldo finale di 875 milioni di euro. Questi sono i dati che emergono dalla relazione illustrativa del Presidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, Giacomo Bugliani, al Consiglio regionale, che ha approvato l'assestamento con 19 voti favorevoli e 15 contrari. In tempi molto rapidi è arrivata la variazione di bilancio. Il Consiglio regionale e le Commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare la più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi, una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della Regione Toscana al cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa appunto ai fondi FEASR, FEASR e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie e quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure, con validi strumenti su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale che è quello della viabilità pubblica attraverso una serie di misure di sostegno che vanno ai territori, agli enti locali soprattutto con misure imponenti che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzione. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla Capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni. Un bilancio importante, abbiamo fatto bene a forzare per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e le relative variazioni e defre. Era doveroso perché i Comuni aspettano risorsi dalla Regione, le imprese li aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna, tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante, altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la candidarizzazione della variazione di bilancio secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti in tanti settori, anche richieste che noi avevamo fatto, penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai tartufai, penso alle viabilità, a questioni di carattere formativo, scolastico delle università. Guardate, lì dentro, dentro il documento economico e finanziario della Regione Toscana e nelle due proposte di legge che parlano della variazione di bilancio non c'è niente che ci porti a votare a favore, non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della Regione Toscana. È una legge mancia, le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali, pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione, alla promozione delle associazioni culturali, che per noi la cultura vale, sì è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della Regione Toscana, mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra Regione, il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quella, spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. E allora ci domandiamo come possono essere aiutate le imprese in un momento così difficile. La Toscana, secondo i dati della Banca d'Italia, è la prima Regione in Italia ad essere stata duramente colpita. Abbiamo perso il 13,8% del nostro prodotto interno lordo, e come si pensa di aiutare le imprese dando le mancette? Ecco, noi siamo contrari. Ci aspettavamo di più per i PETS, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori, straordinarie, in realtà ordinarie, perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano, e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. Per la crisi è necessario riportare soldi alla sanità territoriale che abbiamo visto essere stata molto depotenziata in questo decennio, ma soprattutto una sanità che già a metà anno ha 400 milioni di debito, 400 milioni in meno che a questo punto non potranno essere utilizzati per rimpinguare il personale di cui invece hanno grande bisogno e hanno grande bisogno gli ospedali. Da quel poco che abbiamo visto parole al vento e anche mal fatte. Faccio un esempio su tutte. L'aspetto sanitario, che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove. Sulla sanità, se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della Regione Toscana, la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19. Cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Su altri aspetti ci sono considerazioni veramente superficiali. Il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tramvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana che è una follia, è un'infrastruttura che a Firenze ha canterizzato la città per 11 anni per collegare ancora oggi un terzo di città la vogliono proporre come metodo di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia. Cioè forse nel 2090 con questi ritmi avremo un sistema di collegamento. Quindi un documento che dice poco o niente e che quindi il nostro voto sarà un voto molto politico, un voto contrario molto politico. Le infrastrutture della nostra Regione, infrastrutture viarie per una migliore capacità di monitoraggio della strada di grande comunicazione la Firenze, Pisa, Livorno e delle altre strade regionali nel programma di governo è stata inserita la creazione di una società con lo scopo di conoscere in dettaglio esigenze e priorità quindi ottimizzare i tempi di realizzazione dei vari interventi diminuendo gli imprevisti e garantendo peraltro un'efficacia di circolazione stradale. È stato l'assessore Stefano Baccelli nella sua comunicazione in consiglio che ha riferito sulle condizioni sulla manutenzione della strada di grande comunicazione Firenze, Pisa, Livorno ma anche dell'accordo autostradale stavo per dire superstrada dell'accordo autostradale Firenze-Siena e la strada statale Siena-Grosseto. Entrando nel dettaglio della FIPILI il livello di traffico e di tipo autostradale anche superiore alle 50.000 unità di veicoli al giorno ha detto appunto Stefano Baccelli. Poi il consiglio regionale ha affrontato anche gli atti collegati approvando maggioranza una mozione del Partito Democratico che impegna la Giunta a attivarsi per completare quanto prima i lavori previsti per la messa in sicurezza della Firenze-Pisa Livorno sul tratto interessato dalla frana del gennaio scorso prima firmataria Cristina Giacchi. Devo dire soddisfatta anche dell'approvazione del nostro atto collegato alla comunicazione dell'assessore Baccelli la mozione del PD che è stata approvata nello scorso consiglio e che chiede oltre all'aver accolto i progetti della Giunta regionale chiede però che con quegli strumenti si realizzino interventi e investimenti definitivi sulla FIPLi al di là del modello di gestione di avere una società in house che si occupa delle strade ciò che conterà sarà il livello e non solo la quantità ma anche la qualità degli investimenti come abbiamo visto di recente nel balletto tra le istituzioni è successo che un finanziamento importante che serviva a risolvere i problemi più urgenti della FIPLi sia di fatto entrato definitivamente nelle casse della città metropolitana soltanto con l'atto dirigenziale ultimo del 13 luglio pensate e l'intervento in via d'urgenza non era stato consentito in un primo momento quindi è chiaro che gli enti locali erano norme stringenti forse la società nuova potrà essere una risposta dal punto di vista burocratico quello che è certo è che deve rimanere alta l'attenzione su un futuro di medio e lungo periodo per quella strada non soltanto volto a rappezzare di volta in volta intervenire sulle urgenze questo ci è stato assicurato che verrà fatto questo chiede al governo l'atto del PD approvato nello scorso consiglio collegato alla comunicazione della giunta io ho scritto mesi fa IRPET che è l'istituto che studia i flussi della Toscana e IRPET ci comunica che la FIPILI così com'è costa 100.000 euro al giorno ai toscani in termini di minore chance minore opportunità e in termini di maggiori costi sociali significa che costa su 5 giorni una settimana 500.000 euro la settimana 2 milioni di euro il mese oltre 20 milioni di euro l'anno questi sono i costi della FIPILI continuare a avere una delle arterie fondamentali della Toscana in queste condizioni significa dare meno chance più costi più pesantezza a tutto il sistema toscano sia delle imprese sia dei lavoratori sia di chi vuole più semplicemente andare a giro andare al mare andare in vacanze vi dicendo deve essere risolto il problema Gianni ha lanciato l'idea di Toscana strade SPA noi non siamo pregiudizialmente contrari però che ci dica che cosa vuol fare perché finora è un fumetto senza nessun tipo di riscontro ciò che manca alla FIPILI che è sempre mancato è una progettazione di medio e lungo respiro e soprattutto soldi finanziamenti appurato che dal PNRR non si possono prendere e che i fondi della regione toscana non bastano l'unica cosa che si può fare è guardare al nuovo settennato dei fondi europei strutturali e al governo nazionale sicuramente creare più poltrone con un nuovo CDA non aumenterà i soldi che già ci sono piuttosto moltiplicherà le poltrone cosa che sembra essere uno degli interessi principali di questa giunta in questa fase iniziale in questo primo scorcio di legislatura noi purtroppo scontiamo una sostanziale difficoltà nella sovrapposizione di competenze tra regione e città metropolitana che non agevola gli interventi che sono spesso fatti in sommorgenza spesso anche disponendo di risorse importanti il caso della Frana è stato emblematico 4 milioni di euro per risolvere un problema che di fatto però si scontra con la fragilità di un territorio quindi di fatto è un grande punto interrogativo quello che sarà il destino di quest'opera non sappiamo se ci saranno adeguamenti non sappiamo quando ci sarà la prossima emergenza quindi è una situazione di incertezza che però invece l'unica cosa certa è quella del traffico è quella del calvario a cui purtroppo sono sottoposti quotidianamente gli automobilisti è un'arteria che meriterebbe diciamo di essere appunto magari collocata tra le opere strategiche di livello nazionale che avrebbe in questo caso consentito magari anche l'utilizzo dei fondi europei così non è e ad oggi invece appunto scontiamo ancora delle difficoltà oggettive in tre anni la regione toscana ha messo sulla FIPILI 43,7 milioni di euro dove sono finiti quei soldi cosa si è fatto con quei soldi la viabilità è migliorata o peggiorata chiedetelo a chi la fa tutti i giorni chi sta due ore in coda chi ancora oggi a causa di una frana è rallentato da oltre due ore un anno fa ci sono stati lavori ininterrotti per otto mesi chiedevamo da oltre un anno e mezzo di fare i lavori anche di notte finalmente ci hanno ascoltato e cominceranno a farli di notte ma quella è una strada che va non soltanto rifatta va completamente cambiata perché è un'arteria fondamentale siamo contrari al pedaggio questo lo diciamo molto forte in termini molto chiari se verrà portato una nuova gabella per i toscani sia per le autoprivate o anche per i tir ma perché penalizzare gli autotrasportatori che quella strada la fanno perché quella strada serve un distretto che per la nostra economia vale il 3% del PIL interno lordo della regione toscana che è il distretto conciario di Santa Croce un distretto fondamentale in termini economici e in termini occupazionali perché dobbiamo penalizzare le imprese che lavorano lì il resoconto di un anno da Presidente del Consiglio regionale di Antonio Mazzeo quali sono gli impegni futuri le tematiche che dovranno affrontare i consiglieri le decisioni da prendere nelle commissioni poi in seconda battuta nelle sedute d'aula il Consiglio regionale tornerà quindi a riunirsi a partire da metà settembre questo è anche l'ultimo appuntamento di dentro il Consiglio prima della pausa estiva e allora facciamo il punto della situazione con il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Io sono davvero molto contento abbiamo approvato tante leggi importanti mi ero posto alcuni obiettivi penso al piano di digitalizzazione per far essere questo luogo un luogo aperto accessibile una casa di vetro per i cittadini toscani la strada abbiamo intrapreso mi pare davvero quella giusta avevo preso un impegno che ci fossero più diritti anche nella parità di genere abbiamo approvato una norma che dice con chiarezza che se fino a ieri noi potevamo dovevamo presentare una candidatura di un uomo una candidatura di una donna e poi non si sapeva alla fine potevano essere anche tutti i uomini membri dei CDA oppure degli organismi della regione ora con questa norma ci sarà effettiva parità di genere e siamo la prima regione italiana ad averlo fatto razionalizzazione del bilancio del Consiglio regionale apertura delle porte del palazzo del Consiglio regionale io devo dire che questo primo anno l'ho vissuto in questa maniera un tempo difficile come quello del Covid quindi consentitemi di ringraziare tutte le colleghe e i colleghi per l'enorme lavoro che hanno fatto a volte anche con fatica perché gli atti arrivavano alla fine ma siamo riusciti a legifrare tanto e approveremo anche il bilancio la variazione di bilancio che vuol dire dare risorse a tante cittadine a tante imprese a tante associazioni che le aspettavano ci aspetterà un inizio intenso pieno di temi importanti si parlerà dell'ERP si parlerà dei fondi strutturali cosa chiederemo all'Europa come potremo permettere alla Toscana di ripartire più veloce si parlerà del piano dell'economia circolare perché una regione che vuole competere deve avere la capacità di saper smaltire di saper riciclare tutto quello che produce nel proprio territorio insomma sarà un settembre caldo e poi all'ordine del giorno come sapete ci sarà la modifica dello statuto che abbiamo deciso di calendarizzare subito al rientro e come detto è tutto anche per questo appuntamento con Dentro il Consiglio per tutti gli aggiornamenti anche nel periodo estivo vi ricordo per gli approfondimenti il sito www.concilio.regione.toscana.it noi ci fermiamo e ci ritroveremo a metà settembre per riprendere insieme il cammino e scoprire anche i lavori d'aula e portarli appunto a voi gentili telespettatori che ci seguite sempre con tanto affetto grazie ovviamente a tutti voi grazie agli operatori ai montatori in regia di questo nostro programma e quindi ci troviamo a metà settembre sempre qui dentro il Consiglio a metà settembre a metà settembre grazie a tutti i nostri spettatori